Procede il riordino della sanità in Abruzzo. Dopo le polemiche che si erano sollevate e le preoccupazioni di chi vedeva togliersi dal proprio territorio interi reparti, Ortona oggi inaugura un reparto dedicato esclusivamente alla lungodegenza. Il concetto, portato avanti sin dall'inizio, è stato quello di evitare sovrapposizioni in più territori e dedicare invece pertinenze specifiche ai poli ospedalieri. È un reparto nuovo ed è uno di una lunga serie perché abbiamo inaugurato ginecologia oncologica, oggi lungodegenza, prossimamente ci sarà anche la dermatologia oncologica, la riabilitazione e tanti altri servizi. L'idea finale e conclusiva è quella di dire io scendo in campo con 11 giocatori che non siano 11 difensori, che erano i vecchi presidi abruzzesi, tutti a fare le stesse cose con numeri diversi e qualità scarsa. Invece l'idea è dare a ognuno una sua vocazione. Il nuovo reparto, costato 120.000 euro all'asla di Bastolan Cianucchieti, offrirà già dalla prossima settimana ospitalità con 24 posti letto, dotati di tutte le più recenti innovazioni del campo, a partire dai letti, completamente automatizzati, materiali tecnici per evitare le complicanze dei lunghi periodi costretti a letto, un salottino pensato per gli incontri con i visitatori, la ripavimentazione dell'intera area e la consapevolezza di poter gestire più appropriatamente un carico di pazienti che nel 2015 ha raggiunto le 1500 unità. Si tratta infatti di un modulo assistenziale connesso strettamente alla geriatria e a tutte le patologie definite croniche. Ortona oggi è il presidio abruzzese con la più alto tasso di mobilità attiva, cioè viene la gente da fuori, qui a Ortona, dalle altre regioni e dalle altre province per farsi curare, soprattutto per i servizi oncologici connessi al femminile purtroppo, ma insomma così come ci sono i problemi, il sistema sanitario con qualità come qui a Ortona deve caricarsi di risolverli.